cari videogiocatori cari videogiocatrici ben ritrovati qui in questo videogioco magico fantasy e punta e clicca avventura grafica e quattordicesima parte e sono 13 giorni che non registro the book of from wait and taste you però oggi sono pronto no scusate quindicesima parte nella quindicesima parte va bene andiamo per un attimo credevo fosse la quattordicesima vabbè è quando non registro da un po perdo il conto che si bisogna andare avanti allora la città ormai come potete vedere è cambiata siamo con Ivo parliamo un po magari con questo tipo con il lupo puoi dirmi qualcosa cosa è successo a seastone wanted for archmage's murder this dangerous terrorist still not been apprehended no it's a lot of nonsense van buren wants to get rid of the rats because they're alistar's allies she calls them terrorists so that her people can snoop around under the pretence they just want to block off the rattles completely incidentally wink wink they find out of course who lives where and what they think van buren you g patrol da martello è proprio qua la van buren con la bambina malefica anzi tutte e due malefiche e so già è non mi palese no non lo diciamo ecco noi cosa al posto delle stellette pupazzetti che gli ronzano intorno alla testa ah ecco perché così il si spiegano molte cose lei ha ordinato un'altra cosa è un accordo anche la madre ha paura mi sa la figlia no perdiamo il nostro amico volante non è contento nemmeno lui è disapprova ecco siamo senza ipopotamo rosa volante con le ali e adesso è fatto la conoscenza della van buren e di sua figlia caraivo va bene si è diventato una città infantile sylston senti amico mi dispiace si è c'è quella ragazzina noi lo sappiamo aivano c'è qualcosa sotto c'entra anche quel tizio la la non è morto almeno se non l'hanno schiacciato da rana bingo si ancora nella scuola sta attenta però eh cosa fai niente te li tieni beh ci sarebbe il nostro caro amico gnomo però è relegato a june no colpo di stato nessuno l'ha votata insomma io non ho capito molto mettiti delle cuffie almeno non a cosa mi hai dato cosa una chiave mi ha dato qualcosa bene ok allora sappiamo che dobbiamo andare nella scuola adesso vediamo un po' qua noi possiamo un attimo voglio controllare ancora una cosa prima di procedere oltre ah ci sono i due gemellini dove è finita la vostra taverna che fine ha fatto ciao i due gemelli ogre eh ma parliamo con loro lo lasciamo perdere no per ora va bene dai no ci parlerò poi guardate i fiorellini girasoli va bene allora qua noi possiamo sotto c'è la fogna c'è Wilbur ecco abbiamo la chiave possiamo passare andare oltre si volevo dire ah c'è il ah anche qua eh sono la principessa io non ho bisogno di mostrarti un bel niente è anche incinta è vero su altezza per te devo parlare con la Van Buren eh ma lei è eh non discute di certo con te bisogna rafforzare i legami tra i due paesi oh mamma mia questa era la l'ufficio del preside mamma mia è addobbato in una maniera oh tu perché stai bringing l'elfo in here Shieldhand l'elfo è la princesa Ivo del ruolo di woodland sono qui per un'office per un'ordine mia madre la queen la princesa Ivo che un'onore come potrei essere di servizio insomma e a me interessa più la seconda questa qua che bugiarda non è assolutamente andata così non c'entrano nulla a loro non sono terroristi eh dai basta con queste sciocchezze in the town and why are you trying to put the blame on to Wilbur and Remy I was present when Weathervane murdered the archmage I saw it with my own eyes are you saying that I'm a liar I'm the queen's daughter on a diplomatic mission and I'm trying to make an assessment of the situation si cerchiamo di essere diplomatici perché sennò scoppia una guerra qua dove sono tutti gli abitanti dove sono andati tutti in casa di marzapane e chiunque non balli vabbè dai eh sfrattati come per il momento vero there is no crime in Seastone anymore no beggars no one breaking the rules wouldn't it be terrible if the rest of the world remained in a state of chaos disorder and brutality you can't impose your ideas onto all of human kind they have to follow you of their own free will or not as the case may be that was how things used to be done but now there are ways and means of ruling more efficiently and then I've heard enough goodbye wait cosa c'è ora you're not about to go and fetch a certain artifact or you boy any chance con l'artefatto ma di cosa sta parlando no adesso questa mi vuole mettere in gattabuia ecco lo sapevo incidente diplomatico in corso ma non sei una regina tu eh eh si proprio democraticamente eletta si eh però lei con quella è infatti ha capito già tutto è una sveglia la nostra Ivo ha capito ha capito che ha capito che è vivo l'arcimago ma neanche lui è tanto d'accordo comunque il il soldatino e ora siamo stati arrestati missing gattabuia ah ma è Wilbur quello lì sembrerebbe proprio di sì chi è? ah E tu chi sei? Mi conosco solo Remy e... Ah ma sei... Wilbur non può far nulla No lui è in gamba Dai sì 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 Il nipote ci aiuterà Allora qua dobbiamo ovviamente sabotare questi manifesti che lui il giornalista sta piazzando nella bacheca Ok allora Dai tanto lui è piccolino nessuno lo vede Riprova ancora Quel lavoro non finirà mai più Allora Adesso mi serve Un po' di... Ah è una bella salsiccia Mi è venuta fame Allora bisogna prendere un pezzo di carbone Si La fai È enorme quel carbone È grosso quanto te Allora adesso noi dobbiamo Usa il pezzo di carbone con... Miglioriamo il poster Facciamo il... È il simbolo della resistenza E adesso lo rimettiamo là Poi lui lo... Capirete adesso Ci da un po' Ci mette un po' di colla Vai che puoi farlo Vai Aspetta un attimo Sì no non deve vederti Devi farlo mentre... Ok adesso vai Adesso lui ci da una pennellata di colla Poi lo riprendiamo il foglio e... Facciamo un bello... Un bello scherzetto Capirete tra poco Ok Vai prendilo ora che puoi Un attimo eh Inbratta la guardia Solo che adesso lui è seduto Dobbiamo aspettare che si alzi Dai 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 Sbrigati Adesso si siede La sua schiena Eccolo qua Incollato Con il simbolo della resistenza Verrebbe trasformato Non voglio immaginarlo Va bene Abbiamo fatto un buon lavoro Ha fatto cadere la chiave Come potete vedere Prendiamo la chiave Sì ma non mi interessa Allora il mazzo di chiavi Sì Quando è stato punto Quando lo ha Punzecchiato Ha perso il mazzo di chiavi Adesso possiamo liberare Ivo Con le chiavi Timmy Timmy È vero Non mi ricordavo il nome adesso Il nipote di Remy Timmy Timmy Sì Ehi principessa Ho fatto un bel lavoro Vero Sono qui per darti la chiave Ho fatto un bel lavoro Non posso lasciare una principessa In gatta buia Ok dovrebbe uscire Sì Ho aperto la porta Perfetto Salvatore di principesse Buono Un bronzino Più o meno Dov'è Wilbur? Ancora giù eh Sì Eh ma Mi sa che dobbiamo andare Anche noi Ivo Da questa parte Ma questo è il mercante Quello là Eh sì Il traditore Che aveva promesso Di liberare gli zombie E poi invece li fa Dov'è l'ingresso? Lo hai detto Eh ce n'hai invece di affari Eh ce n'hai invece di affari Bravo vai va perché sei un Un maledetto Tu Sfrutti la gente E gli zombie Ah l'ha lasciato aperto Bene Ogni tanto Qualcosa di bello Ah finalmente Sì Ha raccontato tutto Si erano incontrati Vi ricordate C'era stato questo dialogo Con Wilbur Alla fine Questo non è necessario Eh Non era necessario Sì Ma è anche divertente E a volte è divertente E un po' triste E Quale è il prossimo passo? Come stiamo a cambiare L'archmage Quindi In realtà Ho chiesto Eh ma dai Non è Cosa le dico? No Non stavo scappando No infatti Sono d'accordo con Ivo Eh mancos Eh mancos Eh si è intruffolato Giù Andato in un buco Sì adesso infatti Noi possiamo Controllare Ivo E Wilbur Mamma mia Che stretta Finalmente vedrai La luce E Le stelle Speriamo di sì Prendi Prendi la corda Wilbur E ti cali Ormai Sarà andato molto avanti Remy Mi calo Ah io vado Leghiamo bene la corda Un bel respiro Eh si Vediamo un po' che cosa c'è giù Ci sarà qualcosa di utile Non si vede una mazza Bene C'è qualcuno qua Ah tante Tante Non so persone Eh 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 Un ognomo C'è una bella differenza Ma cosa fa Sta narrando Questo Eh io starei Cercando Eh però Voi chi siete E perché Dei Che baci Che battuta divertente Non ha fatto ridere nessuno No c'è anche l'indovinello Mamma mia quanto parlano questi Sto cercando un amico Piccolo peloso con la coda Un cappello Ancora Beh questa era Simpatica perché è la verità Va bene Beh una fiaccola Eh solo qua c'è un po' di luce Se siete degli dei Fatte un po' di luce E luce fu Non potete? No Ha solo il potere di raccontare barzellette Che non fanno ridere nessuno Eh fallo allora Dai su E gli sviluppatori hanno voluto così Eh ma E infatti non posso Ma di nuovo la stessa cosa Conosce quattro barzellette Quattro freddure Ah 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 Insomma Ah la mia Oh ah 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 Forse mezza Ah 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 Mais so fare nulla qua perché senza luce non possiamo muoverci e allora me ne vado perché tanto qua non come avrà fatto remi chissà ciao team misto è tutto posto remi non c'è no non è non l'ho visto potrei parlare con timi ma preferisco occuparmi di cose più serie infatti stavo guardando questa roba possiamo trovare qualcosa in mezzo di utile un specchietto forse possiamo riflettere la luce con lo specchietto potrebbe funzionare mi conviene passare ad Ivo puoi aiutarmi con la luce stalle lontana eh sì però sto esaurendo le conversazioni è peggio anche peggio non è drastica lei eh questa è la cosa peggiore infatti eh cosa ci fai a Seastone lo speriamo tutti dove sarà Mancos eh si sarà nascosto nell'ombra non c'è passiamo ad Ivo vediamo se si può ah finalmente i due ragazzoni la famiglia è fuori magari potrei provare a fare quattro chiacchiere con qualcosa abbiamo cammino focolare provare a parlare con loro possibile scambiare due battute con dei gentili uomini mademoiselle è incinta non si è arrabbiata con loro stranamente mi chiamo Ivo tu chi sei? noi lo sappiamo chi sono però lei non lo sa è meglio di no anche perché era stata arrestata poi si è liberata è meglio che non giri troppo persisto prima è infatti tutt'altra cosa è una taverna adesso è un coso per bambini è infatti è una bella locanda va bene dai sì mi dispiace sono con voi a parte questo non ho capito il tuo nome ma già che ho oh scusami scusami vostra serena signora mi chiamami Ivo il mio nome è Zlof è il mio fratello Blout 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 Zlof non so vero lui ha non eri un mage no ma stavi beh si non era infatti avevi provato a fare un un cavolo di golem però non ti era andata bene l'ha fatto Wilbur però si è rivelato più che altro un problema quel golem questo a me interessa grazie 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 per questa cosa per questo affare mi devo andare adesso è stato un piacere mi dispiace per la vostra locanda facevano anche buoni affari altrimenti la bianca sarebbe estremamente impractical allora prima di andare da Wilbur voglio controllare un attimo qua catturiamo le stelle per la luce per Wilbur mi serviva un cielo stellato qua è perfetto ok nella scuola non direi proprio di no altrimenti ci arrestano nuovamente andiamo via sarei quasi tentato ma è meglio non rischiare Wilbur sto arrivando da te ho la luce potrei dirlo tu e luce fu in realtà potrei anche staccare dai la luce stellare ringrazio che non è più un mago e torniamo al caro Wilbur c'ho tutto vero no mi manca sì no ce l'ho ce l'ho quindi l'ha presa in automatico allora io direi di andare subito giù e poi magari di fermarci di sotto o parlo anche con Timmy cosa dite in realtà non mi serve no infatti abbiamo ma in realtà ho già tutto grazie a Divo quindi questo era un discorso da fare prima sicuramente e vabbè dai mettiamoci qua di sotto in questo posto buio nero come la pece prima però illuminiamo tutto così vi faccio vedere che luce sia si a quanto pare sono solo statue e tu avevi paura di di delle statue dai ma l'hai già detta questa è la seconda volta che ripeti la battuta ok va bene dopo questa freddura noi ci lasciamo qua spero che questa quindicesima puntata di the book of on rate and taste 2 vi sia piaciuta e noi ci rivediamo poi al prossimo video di questo gioco che arriverà arriverà alla prossima ciao